Buona domenica a tutti. Siamo alla trentaduesima del tempo ordinario. Ci siamo lasciati alle spalle la solennità di tutti i Santi e anche la commemorazione dei nostri fedeli defunti. Gesù riprende il cammino e, come sempre, su questo cammino, che non sempre è facile, è come se fosse il nostro cammino che accompagna il suo verso Gerusalemme, si trova di fronte ancora una volta scribi e farisei. E, di contro, ascolteremo dal Vangelo sempre di Marco l'esempio grandioso di una vedova, la diseredata del popolo, che è anche un passo parallelo, questo Vangelo di questa domenica, della prima lettura, nella quale la vedova di Sarepta incontra il profeta Elia, il profeta più insigne della legge del Vecchio Testamento, che annuncia, per certi aspetti, la stessa venuta di Gesù Cristo e quindi il connesso messaggio di libertà e di grande amore per ognuno, senza distinzioni. Siamo al Vangelo di Marco, ancora una volta. Siamo sempre al capitolo 12, i versetti sono dal 38 al 44 e lo leggiamo insieme. In quel tempo, Gesù diceva alla folla nel suo insegnamento, guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoge e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, Gesù osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro, in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Noi sappiamo che gli iscrivi, nella narrazione dei quattro Vangeli, rappresentano i cosiddetti teologi ufficiali, anche potenti, temuti dal popolo di Israele. E in questa pericopa evangelica, tuttavia, c'è di fronte un altro grande personaggio, semplice, umile, misera, ma anche ripiena della sua dignità, che si pone di fronte al tesoro, facendo un gesto tipico del tempo di Gesù, gettando delle monetine. E potremmo dire che, con tutta la sua miseria, come dice Gesù, la vedova ci dà una grande lezione di fede. Ora, nella Bibbia, credo che tutti noi lo sappiamo, vedove, orfani, stranieri, sono i cosiddetti senza difesa, gli ultimi, gli inermi. E Dio interviene, comunque, in questo disegno di grande difficoltà, umanamente inteso, prendendo le loro difese, potremmo dire anche entrando nel loro dolore quotidiano. Ed è Gesù che lui stesso predilige molto il rapporto con le donne sole. Ecco, gli scribi insegnavano, la vedova non ha certamente titolo per insegnare, ha solo una grande fede, una grande sapienza del vivere, che è un vivere quotidiano, dove pane, lacrime, difficoltà, dolori, li contrappone a questa cattedra degli scribi, questi teologi, del dire ma del non fare. E Gesù ci dice che abitare il mondo, secondo il suo messaggio, non è il criterio della quantità che lo contraddistingue, ma è, casomai, del cuore. Avete sentito? Venuta una vedova povera, gettò in offerta due monetine, due spiccioli, che fanno un soldo, dice Marco. Ecco, ecco, sono due. Direi che la donna forse poteva anche tenersene uno e l'altro gettarlo nel tesoro. Ma la donna dà tutto, cioè è un gesto totalizzante. Ed allora che significa questo gesto della donna? Potremmo certamente affermare che sono le piccole cose che fanno grandi i gesti, ma soprattutto anche la nostra scelta di aderire a Gesù. Vedete, Gesù nel suo Vangelo ci ha sempre ricordato che è la piccolezza che conta di fronte al giudizio di amore che ci verrà dato. E avete sentito che dice, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Ecco, la donna non si aspetta risultati eccezionali. Non si aspetta certamente o dagli iscrivi stessi o dal giudizio di chi era con lei, chissà quali promesse. Tuttavia, ella compie un grande gesto per ricordare la festa e la solennità dei Santi, di autentica e assoluta santità. Perché la santità in fin dei conti e la vedova ce lo insegna, sono piccoli gesti ma pieni di grande cuore. Ecco, ogni gesto umano che oggi contraddistingue me e tutti voi che siete in ascolto e in visione, potremmo dire che dovrebbero essere gesti che sgorgano direttamente dal nostro cuore per avvicinarci a Dio stesso. Potremmo così affermare che ogni nostro atto totale, come la donna ha fatto, contiene e potrà contenere davvero qualcosa di divino. In fin dei conti, il gesto della donna, ci dice Gesù, ci suggerisce davvero che nessuno di noi è così povero da non poter donare la propria vita a Dio e al prossimo. Ricordate il dialogo con il giovane che aveva interrogato Gesù sui comandamenti. Dio e il prossimo. Ecco, il nostro destino, guardate, non è diverso. Perché la donazione a Dio e al prossimo è la strada migliore per poter incanalarci singolarmente e come popolo verso la santità di vita. Perché noi siamo nati, vero, per costruire relazione ed essere anche generatori di vita. Ma la vita non ci spetta come un diritto da tenere stretto per noi. La vita, certamente, per Gesù, significa condivisione con chi ti sta a fianco nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia. Perché la salvezza, ci ricorda il gesto della donna, consiste nel fare un dono generoso di sé. Perché chiunque fa della propria vita un dono continuo nelle diverse forme di esistenza a cui è chiamato, compie davvero la volontà di Dio. Vedete che è una pedagogia che scava dentro di noi e che sembra, chissà, richiederci quali cose impossibili. E invece ci vengono chiesti gesti di santità, di condivisione, dove il cuore è la guida perché proclami davvero la gloria di Dio e l'amore verso di Dio e verso il prossimo. Buona domenica a tutti! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS